Stamppata, stampata, stampata. Questo suono di chitarra, che è il mio sogno. Sì, 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 Sì. Il primo e il quarto. 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 Sesto sole. Sesto sole è praticamente un nuovo periodo, una nuova era che, secondo gli insegnamenti, la cultura e la tradizione maia, dal 21 dicembre del 2012 ha preso piede fino a diventare predominante nel 2020. Per cui, diciamo, questo input poi ha determinato una sequenza di altri brani che si susseguono. Ecco, per cui, per cui, sesto sole, sentiamo un piccolo aspetto. Diciamo, come brano, è naturalmente un brano strumentale, anche se c'è questa frase che, appunto, ripete il senso sole. L'unica frase, diciamo, con un senso, diciamo, con un senso, diciamo, anche più, po' ecco. Poi ci sono interventi vocali della vocale della vocale della vocale, anche io, che seguo. Cosa dire di questo pezzo? È un pezzo con un'idea di un andamento, qualcosa di ipnotico, ecco. Qualcosa che ti porta fuori dallo spazio-tempo. E vedete, spero di essere riuscito a dare un'impressione di questo tipo, ecco. Grazie a tutti. Sesto sole, sesto sole, sesto sole, sesto sole. Grazie a tutti. Grazie a tutti.